Uno strano gioco del destino, fedele che segna dopo una settimana particolare? Certo, certo. Io tenevo a ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff che mi sono stati vicini e anche i tifosi dei seguaci che sono venuti al campo a fare un bellissimo gesto che ci tenevo a rispondere sul campo. Quindi questione chiusa, adesso si guarda avanti. Certo, ma io da dopo la partita scorsa guardavo avanti e sempre a lavorare, a lavorare. Adesso è un Bari che deve dare continuità a questa vittoria? Certo, questa è una partita. Nel campionato ci sono ancora tante partite, quindi dobbiamo lottare ogni partita e ascoltare quello che dice il mister. Il tuo gol è dedicato quindi alla tifoseria del Bari? Ai miei compagni, alla mia famiglia e ai tifosi dei seguaci che mi sono stati vicini. Grazie.